Una considerazione che mi ha fatto molto piacere oggi insieme agli altri attivisti del Comitato e agli altri gruppi è stata la partecipazione del quartiere ed è stato bello anche avere l'aiuto materiale di altre associazioni penso quella di Borgo Parente, che ci ha fornito molto materiale ed è stato bello sentirsi aiutati da vicini e questo è un po' l'anima del quartiere, secondo me è la parte di Parma che piace di più Grazie